Oggi è una giornata importante, questa inaugurazione di una struttura tanto attesa d'imperia, tanto attesa sul territorio. Anni di lavoro, anni lunghi di lavoro, ma che hanno apportato un giorno che io ritengo di festa, ma soprattutto un giorno importante. Complimenti alla ASL che ha fatto sicuramente un ottimo lavoro e credo che da oggi i cittadini possano avere con questo pala salute qui a Porto Maurizio un servizio importante per tante persone, soprattutto anche le persone anziane che devono periodicamente fare controlli, fare visite. Quindi credo un servizio che deve essere un'eccellenza per la città d'imperia, ma deve essere un'eccellenza per il territorio perché le esigenze sanitarie sono sempre primarie per tutti i cittadini, quindi credo un giorno importante. Oggi si inaugura il pala salute di Imperia, un'opera importante, piacevole anche dal punto di vista architettonico, ma non è questo quello che conta, quello che conta è il servizio che darà ai cittadini, la facilitazione che darà ai cittadini di vivere meglio il loro rapporto anche con la sanità in Liguria. È un momento di grandi cambiamenti, si sono portate avanti cose però che erano già state stabilite anche in passato. Speriamo che a breve, dopo questo di Imperia, venga inaugurato anche quello di Sanremo, nel tentativo riuscito di avvicinare e di migliorare il servizio sanitario per i nostri concittadini della provincia di Imperia e di tutta la Liguria.